bello a tutti ragazzi per questo nuovo video, oggi siamo tornati sul Mad Max sul... non mi ricordo che episodio è ora? è il terzo e niente, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a giocare questo terzo episodio allora che dovrei andare? guarda qua una bella virtuosa allora io non voglio fare un caso con il Harpoon avviamo un'inforzamento in molti locali e anche se potrebbe essere utile in battaglia come? ma potremmo ma potremmo usare per aiutare i nemici? non ci sono le nostre ma non ci sono le nostre ma non ci sono le nostre non ci sono le nostre abbiamo tutto ciò che bisognavamo? è solo le nostre il piatto ma il piatto del GTIG non è qui non è qui in un pozzo è proprio là per il giocatore ok devo andare qua ok ottimo ok 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 per ottenere una possibilità potrebbe necessario nitro non so come ma potremo necessarli solo li sarà semplice sì ma prima i ragazzi Scrotus sono fuori ma se non riusciamo i numeri questo significa il fine di te io e il magnum opus ok ottimo quindi dove ok la macchina giusto no no mod mandato a sconfiggere sti mostri giusto cioè dovrei usare la potenza sperano avanti il magnum opus per distruggere spaventava quindi quindi così lo devo andare a distruggere il magnum opus per distruggere non c'è ridotto devo andare a distruggere quest'altro che sta lì ok 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 no dai 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 ottimo ora non ho visto per l'altro che cazzati 4 Che c'è quello? Allora Ottimo Andare a distruggere quello No, scherzo, andare a lontano Ah, ho capito Ok, ho capito Ottimo Che c'è? Ok, va a fare questa strada qua Vediamo Vediamo Ok Abbiamo qua Vediamo qua Che c'è il giro Che c'è il giro Quattro Che c'è il giro Che c'è il giro Ok Per me Mi ha fatto spesso Vigliato da mori tipici Quando ti avvicino al campamento Rifis il drone d'allerta Se il locatore d'allerta ti riempie Le difese di guarda L'accampamento Verrà una potenzione di ventana Molto più pericolosa Ehm... Come cazzo faccio? Corri debole Cazzo Cazzo Vai via Entra Entra Ehm... Allora aspetta Allora aspetta Allora aspetta Allora aspetta Vediamo Allora Allora Vediamo Bene Bene Allora Allora Overemo proseguire a piedi giusto? Ottimo Ottimo! L'allulatore di guerra, quando tu avvicini all'allulatore di guerra, questo te... Entrerai in strada all'alerta, sei in grado di livello all'alerta, ti riempi, dimmi tutti i secondi che iniziati... Oh, oh, muori, muori! Oh, oh! Ahi! Ruffang cura, veda! ok bene voglio fare così giusto grande non ho lasciato nulla ok ragazze l'abbiamo fatto ok come cazzo raccogli riporto storico nuova da we miss you come back son anche come io sto che giunto tutti Ok, guarda un po' di rottani Vieni qui! Non è il migliore di fare Muori, cazzo! Vabbè C'ho pochissima vita, ma voglio Cazzo Vabbè 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 Ok Ok Puglia, puglia sbaccato Muori 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 TAC 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 Vai, vai, cac... Vai, vai, cac... Oh, cac... Ok, ultimo andato Bene, ora ho trovato una carica di carburante Ho trovato per fortuna Ottimo Ok Raga, forse ce l'abbiamo fatta Forse abbiamo completato la missione Ottimo 98% Bella Obiettivi Mi raccogliono 100% Torna la magnum Ups Inizio Fin conto di un serioso abitante dalla terra tesolata Fin conto di un serioso abitante dalla terra tesolata Oh Non è nemmeno, non cac... Ok, non cac... Ok Ok Qu'è tutto questo? Un giorno, il paese di silenzio finirà e ti cominciai. Tu hai un purpose in questa vita, mio amore, anche se ti siano a lo soffermi. Ma il dolore arriverà molto più dolore prima che questo purpose per te è fatto, manifesto. Tu non conosci nulla di me. Tu non conosci, non ti senti. Nasi, mesi, 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 mesi. Tu non conosci la vita, queste fanno passato, e la scuola che si tratta dentro. Tu che vieni a Grifo per una risa, deep inside, tu asciuggeri le ore che vieni, che è la sua forte. Grazie a tutti, grazie a tutti. Forse dovevo mettere quell'altro, però non capito come si confermava. Ok. Dimmi che ha completato la missione. Questa è una problematica. Siamo in completamento delle sfide. Tornata, tornata. Dimmi che ha completato la missione. Sponso. That's trouble. Beh. Guardate, come si è completato. Potrebbe un pancino nel giro. No, non ha. Non c'è quanto doveva trovare un pancino così grande. E adesso ha colto la pancia. Non c'è la pancia. Non muore. Non muore. Mi sono completato. Matizza, non è con la metà, se... No. No. Ben carina. Tornata. Per oggi è tutto. Il video è lunghissimo. Ok. E... Salva tanto. Vabbè, raga, il video è lungo e niente, noi ci lasciamo qui e ci vediamo al prossimo episodio per Wyo